eccoci al terzo e ultimo e ultimo video e anche ultimo turno della dello scenario introduttivo stiamo ricordo seguendo lo scenario guidato dal playbook del gioco siamo arrivati praticamente alla 45 luglio del 41 ok quindi iniziamo col ricordiamo sempre che abbiamo subito il segmento strategico quindi meteo niente replacement niente rinforzi si finalmente i rinforzi del russo entrano in automatica l'ultimo turno lo metteremo da parte perché ovviamente essendo un'unità motorizzata potrebbe entrare sia nel movimento e può entrare subito nella fase russa nella fase motorizzata o anche tenerla l'ultimo per vedere un attimo un po tutta la situazione andremo a vedere e iniziamo con la fase aerea dove i russi vanno a tirare per il per vedere se avranno disponibilità del dell'unità aerea il g 87 tira un guardiamo un 6 quindi va nel ready box mentre questo non passa perché tira un 9 come vedete 8 più rimane 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 praticamente rimane praticamente qui e il tedesco decide di non fare interdizione terrà l'unità da bombardamento da bombardamento per eventuali attacchi e quindi passiamo alla supply face niente passiamo al segmento tedesco segmento tedesco inizia con il movimento dell'asse ok abbiamo svuoti i movimenti quindi questa che come vedete motorizzata e al 7 in giallo può fare movimento di filtrazione quindi va qui e già che la sua zoc che sono i sei esagoni intorno viene proiettata anche nell'esagono victory point quell'esagono li diventa conquistato da parte tedesco anche ingegneri stessa cosa hanno hanno praticamente il 7 in giallo quindi possono fare movimento di infiltrazione quindi da zoc a zoc e la fanno anche questa stessa cosa di infiltrazione di un esagono spendendo tutta la ma è tutte e tranno spesso tutte le ma con un movimento di infiltrazione cioè partendo da zoc arrivando in un'altra zoc il never welfare torna qui di fronte a barisov a borisov come l'ho chiamato sempre barisov dall'inizio dei tour del gioco comunque va bene borisov non mi ricordo e l'artiglieria la portiamo in questo esagono qua perché 2 2 2 e 2 praticamente riesce eventualmente da arrivare ad attaccare tutte le unità russe questo è la fase di movimento dell'asse ricordo che la fase del movimento dell'asse possono muovere tutte le unità lo faccio sempre vedere perché io molto spesso questo 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 schema qua quando gioco no ok fase movimento full m ha detto questo c'è la dichiarazione della fase di dichiarazione degli attacchi fatto il movimento dell'asse c'è la dichiarazione di attacco quindi viene dichiarato l'attacco su borisov che praticamente circondata dopo c'è la reazione la reazione russa che praticamente non può avvenire perché tutte le unità che potrebbero che sono queste questa e questa queste due qua sono in zoc nemica quindi in automatico non possono reagire altra cosa importante l'unità di artiglieria che adesso dovrebbe dichiarare il proprio supporto non può partecipare alla difesa di borisov perché si trova deve deve comunque avendo un'unità di fianco non può prestare sulla sua forza di supporto ad un esagono lontano se ce n'ha un ciao nemico vicino mi sembra di aver capito così aspettate quindi praticamente l'unico modo per tenere questo esagono qua è un tiro fortunato perché questo avrebbe dato due di supporto e non è poco passiamo alla fase di combattimento il giocatore dell'asse dichiara il il cas e piazza la sua unità ovviamente nell'esagono del difensore non c'è combattimento aereo perché non ha né aereo né contro aereo perché non c'è una cacone un antiaerea e quindi la missione è in automatico a successo e quindi otterrà un meno due adesso andiamo a scriverli tutti a mi scordavo 1 2 3 4 ma dice che il hq della tredicesima matta e mettono ordine non ritirata per l'esagono e poi segnali inappropriato a facci in giù ma secondo me 1 2 3 4 no ci arriva scusate 1 2 3 4 quindi da un ordine di no ritirata me l'ho scordato prima nella fase di reazione ok passiamo alla fase di combattimento abbiamo detto che in automatico il cash darà un meno due le never welfare partecipa all'attacco che deve dichiararlo e il tedesco non dà ordini eccoci qui quindi la forza di attacco questa fa me lo sbagliato avevo messo unità russa qua invece era entrata dentro boriso quindi 6 12 15 16 con ingegneri ok 16 con ingegneri più no scusami 6 13 più 4 di artiglieria 17 mentre il difensore perché questo non può partecipare abbiamo detto anche prima a 4 quindi un 4 a 1 avremo meno 2 di drm per il caso il volo aereo meno 1 per l'integrità divisionale perché abbiamo divisionale perché abbiamo un'unità panster più unità motorizzata più in altra unità fanteria motorizzata e invece i russi avranno più uno per lo strong point quindi avremo un drm di meno uno si tira 4 che diventerà un 3 andiamo a vedere il 4 1 nel 4 1 un 3 è attaccante niente 4 1 3 attaccante niente 2 r il difensore quindi attaccate niente il difensore avrà 2 r quindi avendo due r la ritirata viene trasformata in un extra step da perdere ma tanto qui abbiamo solo due unità che sono già flippate quindi vengono perse le due unità flippate e praticamente il terzo a terzo step loss viene automaticamente perso il never welfare come abbiamo visto prima si può ritirare e si ritirano in 16 31 sempre qui direi che 52 che questo il 101 e il 18 nel 18 finalmente riescono a conquistare la cittadina di borisov quindi ad oggi i tedeschi hanno quest'esagono qua quest'esagono qua quest'esagono è conteso sia russo che tedesco che rimane questo fuori e questo qui perfetto adesso andremo a vedere siamo nel entriamo nella fase di movimento motorizzato dell'asse e andremo a vedere come funziona lover run allora lover run non non è un combattimento è uno sfondamento ovviamente che avviene nella fase di movimento o motorizzata o nella fase di movimento normale quindi delle unità si possono muovere possono cercare di liberare l'esagono dove vi è l'unità nemica nel caso cui ci riescano possono continuare tranquillamente il loro movimento allora lover run appunto viene nel movimento in questo caso qua questa unità qua spendono mezzo per la strada mezzo per entrare in questo esagono qua più uno per lover run ok quindi hanno speso due punti vi sono dei allora c'è un minimo per poter fare il lover run per esempio per i tedeschi il minimo è un 5 a 1 qua ovviamente andiamo a vedere passiamo a 3 6 9 12 12 a 1 praticamente quindi vi sono anche dei drm che sono meno 2 se sia superiore al 10 a 1 come in questo caso qua quindi avremo un meno un meno due e poi avremo un più due perché l'attacco avviene in un esagono in un esagono di bosco quindi praticamente i drm si cancellano il tiro del da dei due e si andrà a vedere la tabella dell'over run vedete che qua ci sono per i tedeschi il minimo credono per entrambi forse è un 5 a 1 adesso non mi ricordo e comunque qua ci sono i vari i vari drm quindi facendo due o meno lo stack perde uno step e risiedi tira di due esagoni e piazza un over run marker sullo stack ma questo non ha praticamente solo uno step perché questo c'è c'è il fire red quindi viene eliminato e lo verrà avuto successo avendo fatto due quindi praticamente come abbiamo visto si spende gli mp per entrare nell'esagono da sfondare più un mp aggiuntivo detto questo ok e ingegnere muove in in al 20 e 30 che questo qua perfetto poi vediamo vediamo qui che cosa succede qua c'è una piccola considerazione tattica che dice praticamente che a causa della sconsideratezza del giocatore sovietico si le cose si stanno mettendo meglio per l'asse perché stanno controllando quattro dei cinque esagoni obiettivo ma il 20 30 vulnerabile il 20 30 che è questo qua perché alla fine avevano la zocqua questo qua questo qua che sono passati per ultimi questo ci sono però c'è una difesa di uno e non è proprio il massimo passiamo alla fase di movimento passiamo alla fase sovietica quindi fase di moto motorizzata della del giocatore sovietico allora questa unità stiamo analizzando non può attaccare questa è semplice fatto che si attacca questa deve attaccare anche questa quindi questa unità qua che la 12 1 moscov non può e l'unità in 20 28 20 28 che sono queste sicuramente certamente faranno un movimento di reazione per andare ad aiutare questa unità qua di ricognizione quindi questa unità qua non può attaccare questa perché dovrebbe attaccare queste di conseguenza ci sarebbe la reazione nell'esagono Comunque andiamo avanti muove l'unità corazzata 12 1 che è questo appunto dal 21 29 al 22 30 22 30 al 21 30 così in questa maniera qua può attaccarlo perché non non è vicino a quella la così te sovietici di accumulare cinque punti d'attacco perché siamo 4 più 15 vedete l'attacco 4 più 15 forza d'attacco incluso un punto del reggimento che quello lì sui 5 più 1 no del reggimento Minsk sì appunto che quello di 4 più 15 per attaccare la l'esagono 20 30 115 reggimento carri che quello che è appunto finalmente arrivato entra nella mappa attraverso l'esagono 22 30 22 22 30 termine sul movimento in 21 29 21 29 ok dove blocca il movimento di reazione nel 20 e 30 con la sua zocca infatti perché se fosse stata così bella mossa questa se questi attaccavano questi questi potevano reagire sia questo che questi qua quindi andandogli a mettere una zocca qui questo non può reagire e questi qui non possono andare dove loro fare il giro da dietro ma non ci arriverebbero spenderebbero troppo e quindi ha bloccato fondamentalmente la possibilità della reazione della diciottesima parte gran bella mossa questa è ok ok dove blocca il movimento di reazione nel 20 e 30 si fase di dichiarazione di attacco e qua vedete è stata fatta la dichiarazione fortunatamente però l'artiglieria che si trova vicino all'esagono difendente può partecipare all'attacco e inizia il combattimento eccoci quindi andiamo proseguiamo con l'attacco i russi hanno un 4 più 15 mentre i tedeschi i tedeschi hanno 3 punti di difesa hanno uno e uno di supporto sì qua ci deve essere un errore perché la difesa non è 3 ma i due questo l'abbiamo girata prima quindi qua c'è un errore secondo me nel nell'esempio di gioco e siccome c'è un errore anche ma devo controllare nell'overrun per i punti movimento spesi però ci devo guardare quindi in teoria sarebbe 4 5 l'attacco e 1 più 1 2 la difesa questo non può reagire non reagisce nessuno quindi è impossibile comunque consideriamo che è un 5 a 3 seguiamo l'esempio è un 5 a 3 si tira è un 3 a 2 nella combat result table tiriamo un 5 non ci sono drm il risultato è 1 asterisco per l'attaccante r per il difensore quindi gli attaccanti sovietici gli attaccanti sovietici devono perdere uno step e quindi perdono Minsk che viene eliminata invece i genieri tedeschi quindi innanzitutto non esiste alcuna condizione per l'asterisco per l'attrito dei corazzati quindi non vengono considerati in questo caso qua invece prima nell'esempio che abbiamo visto prima c'era e condizioni asterisco quindi non si accumulano ulteriori perdite per i sovietici i 413 genieri ritira nell'esagono 18 29 18 19 18 19 18 29 18 29 vanno qui e questo ovviamente avanza questo ovviamente avanza e penso che siamo giunti alla fine si siamo giunti alla fine fondamentalmente i tedeschi hanno avanzato hanno ucciso hanno distrutto tutto però grazie soprattutto anche all'arrivo di questa unità qua come rinforzo sono rinforzo sono rinforzo sono rinforzo sono rinforzo sono rinforzo a conquistare questo esagono qua che è un victory point ottenendone 2 su 5 e di conseguenza già che i tedeschi dovevano almeno averne 4 su 5 i russi hanno vinto lo scenario detto questo devo solo di controllare il discorso delle spese movimento per l'over run spero che l'esempio ho seguito proprio l'esempio appunto del playbook spero che sia stato chiaro se avete domande scrivete nei commenti spero di riuscire a rispondere